Riconfermato all'unanimità il segretario generale Alfonso Buscemi sarà lui a guidare la CGL di Agrigento per il prossimo quadriennio. L'elezione questa mattina è in occasione del congresso provinciale, incentrato sul tema Il lavoro crea il futuro, che è stato celebrato agli oscuri by Palace di San Leone. Alfonso Buscemi è stato rieletto all'unanimità dai presenti al termine della seduta pubblica, che ha visto la presenza tra gli altri, dei sindaci di Agrigento e Aragona e della prefetta Maria Rita Cocciufa. Non posso nascondere la mia grande soddisfazione per la fiducia che mi è stata rinnovata, ha dichiarato il segretario provinciale della CGL, che poi ha aggiunto. È un onore continuare a svolgere questo importante incarico, sapendo di poter contare su un gruppo dirigente che opera con competenze e serietà al servizio del territorio agrigentino. Buscemi era stato eletto nel luglio del 2019, proveniente dalla segreteria regionale della funzione pubblica. L'esperienza palermitana precisa è stata positiva e ha arricchito il mio bagaglio professionale delle relazioni. Essere alla guida del sindacato nel mio territorio è stata e continuerà ad essere, ha concluso Buscemi, una sfida affascinante quanto complessa. Intanto arriva dalla CGL regionale, oltre che da Cisle e Will, la proclamazione dello sciopero del commercio e distribuzione cooperativa in Sicilia. Con lo slogan «La festa non si vende, non si spende» sarà attuato nei giorni 25 a 26 dicembre, 1 e 6 gennaio prossimi. In una nota, le segreterie regionali di CGL, Cisle e Will spiegano che la protesta mira a sostenere il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori del settore di poter conciliare esigenze di vita con esigenze lavorative, garantendo loro anche il diritto al riposo nei giorni festivi delle prossime festività natalizie. Secondo i sindacati, la liberalizzazione delle aperture commerciali ha sortito l'effetto di incidere negativamente sulla qualità della vita delle lavoratrici e lavoratori, peggiorandone anche le condizioni lavorative. Peraltro sostengono non vi sono evidenze sull'aumento dei consumi, ancor più in questo particolare momento storico, segnato dalle tensioni geopolitiche che stanno incidendo fortemente sullo smisurato aumento dei prezzi e di conseguenza sul potere d'acquisto delle famiglie siciliane.